Siamo qui alla Will School, la sede nazionale a Roma. Abbiamo con noi Angelo Luongo che è responsabile del settore dipartimento all'estero. Luongo, buongiorno. Buongiorno a voi. È ancora un'altra occasione di incontro per quanto riguarda queste nuove selezioni per l'estero. Sì, infatti. Noi siamo qui perché è stato bandito da pochi giorni il concorso selettivo per recarsi all'estero nei prossimi anni. Chiediamo a Luongo innanzitutto quali sono le sedi e le modalità per cercare di aggiudicarsi uno dei posti che sappiamo sono molto ambiti per questo insegnamento in una sede italiana all'estero. Grazie. Intanto una premessa. Occorre, vista la pioggia di selezioni per la destinazione all'estero in questi ultimi tre anni, parliamo del 2021-2022, questo è il terzo anno in cui il Ministero degli Esteri bandisce delle nuove selezioni rivolte a personale scolastico di ruolo, attenzione, di ruolo, per la destinazione nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero. La premessa è questa. Si tratta di specifiche graduatorie o di alcune aree linguistiche di alcune graduatorie di classi di concorso per le quali, essendo esaurite le precedenti graduatorie dei concorsi degli anni passati, è necessario quindi svolgere nuove selezioni e elaborare nuove graduatorie da cui attingere per nominare nelle scuole italiane all'estero per i prossimi anni scolastici. Quali sono le sedi dove si potrebbe aspirare a essere collocati? Intanto partiamo da quelle che sono le classi di concorso per le quali sono previste le selezioni. In particolare ricordo la scuola primaria all'area tedesca, anche per quanto riguarda l'insegnamento delle materie letterarie alla scuola media, sempre per l'area linguistica tedesca, così come tecnologia a primo grado, arte e immagine a primo grado, matematica e fisica a secondo grado, per quanto riguarda anche altre classi di concorso rinvio poi alla scheda legata al bando. Naturalmente ad oggi non sono ancora noti i posti vacanti che dal primo settembre 2023 saranno disponibili a partire da questa data per la destinazione all'estero dei docenti che entreranno in queste cadutorie. I posti vacanti saranno resi noti non prima della fine del mese di giugno da parte del Ministro dell'Affari Esteri con la pubblicazione sul sito del Ministero dell'elenco dei posti che si rendono vacanti per il rientro del personale per fine mandato o per nuove istituzioni di posti in determinate realtà scolastiche estere. Bene, lungo quali sono le modalità? Innanzitutto c'è una scadenza credo ai primi di maggio per fare domanda. Tutti gli insegnanti di ruolo possono fare domanda delle varie classi di concorso che sono state appena citate? Sì, la scadenza è appunto all'inizio di maggio e tra l'altro bisogna ricordare che occorre essere in possesso di tre requisiti. Avere almeno quattro anni di servizio effettivo di ruolo, tre anni più il periodo di prova, nella propria classe di concorso per la quale è prevista la selezione. Essere in possesso di un titolo linguistico di livello almeno B2 della lingua o delle lingue richieste per la selezione e il terzo requisito è avere un attestato di frequenza di un corso di formazione rilasciato da un ente di formazione riconosciuto dalla parte del Ministero dell'Istituzione di almeno 25 ore, un corso di formazione nel campo dell'intercultura. Ecco, questi sono i requisiti di partecipazione. Tre titoli che possono poi far accedere al concorso. In cosa consiste il concorso? Il concorso intanto prevede una domanda. In questi giorni tutti i nostri colleghi che intendono partecipare si sono collegati con il portale Ministero Affari Esteri per compilare questa domanda e allegare l'autocertificazione dei vari titoli culturali e professionali. Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie che conterranno il punteggio dei titoli assegnati rispetto ai quali se c'è necessità di una revisione c'è un periodo di tempo per presentare reclamo e contestualmente alla pubblicazione di questa prima graduatoria contenente i titoli saranno indicate le date in cui si svolgeranno i colloqui. La prova è prevista successivamente e con un punteggio minimo di 36 sessantesimi che si aggiungerà al punteggio dei titoli culturali e professionali di servizio. Tutti insieme formeranno poi quello che è il punteggio complessivo con cui il docente si inserisce nella graduatoria. Parliamo di graduatorie esaurite che vengono costituite dall'anno prossimo per quanti anni? Allora, come previsto dalla normativa vigente, le graduatorie hanno una validità di sei anni scolastici salvo esaurimento come già avvenuto per esempio, faccio un esempio, l'area linguistica tedesca scuola primaria. Questo è il terzo anno consecutivo in cui noi assistiamo a una nuova selezione proprio per l'esaurimento delle precedenti graduatorie mentre altre graduatorie del concorso madre del 2019 sono ancora numerose e quindi proseguono la loro validità. Bene, una domanda che interesserà molti nostri lettori e ascoltatori. Quanto percepisce mediamente un docente all'estero? Certamente il trattamento economico è superiore a quanto oggi può percepire un nostro collega in Italia. Ricordiamo quindi che oltre lo stipendio italiano si percepisce una indennità di sede che è calcolata in base a specifici coefficienti del grado di disagio della sede estera che può corrispondere a una somma mensile che può andare dai 2.500-2.800 euro fino a un massimo di 4.000 euro che ovviamente si aggiungono allo stipendio italiano. Inoltre viene riconosciuto al personale scolastico all'estero un contributo spese per l'affitto dell'abitazione durante il periodo di servizio all'estero. A questo si aggiungono le indennità previste per il coniuge a carico per i figli a carico per i figli intorno a un migliaio di euro ciascuno e un contributo come indennità di prima sistemazione e un ulteriore contributo come indennità di rientro al momento della restituzione ai ruoli metropolitani che varia dai 5.500 ai 6.000 euro. Questo complessivamente è il trattamento economico per il personale scolastico in servizio all'estero. Un'ultima domanda. Un docente che non ha esperienza di questo genere di concorsi può chiedere eventualmente supporto al sindacato anche per formarsi per prepararsi alle prove? Allora, la UIS Scuola RUA è a disposizione con il nostro Dipartimento Estero per tutte le informazioni e l'assistenza presso le nostre sedi o direttamente presso la nostra sede nazionale. Inoltre, in collaborazione con il nostro istituto di ricerca IRASE stiamo allestendo una serie di webinar di preparazione sia alla presentazione della domanda e sia successivamente alla preparazione per la prova orale. Tutto questo naturalmente con l'aiuto e la collaborazione di tanti nostri docenti in servizio all'estero, nostri iscritti, nostri RSU che daranno un supporto e un contributo di esperienza, di professionalità anche per venire incontro alle esigenze informative e all'assistenza di tutti i colleghi che intendono tentare questa avventura. Bene, grazie, grazie Angelo Longo e alla UIS Scuola che ci ha fornito queste preziosi informazioni. Grazie e alla prossima occasione. Grazie, grazie.